E saluto tutto Tauranova, emozionata, il signor Viola e sono contenta di stare con voi nel show, grazie. Ok, grazie pure a te. A colei che veramente ci aiuta tantissimo perché è sempre attenta, tranne qualche volta, però è bravissima. Vedete, ha una somiglianza straordinaria con una nota artista, vedete, togli gli occhiali, togli gli occhiali, fai presto, fai presto. Eccola qua. E poi abbiamo, aspetta, insomma, fai una brutta figura. Va bene? Stai benissimo. Io la definisco la idea della bellezza perché c'è un corpo, è stupenda, guardatela bene. Aspetta, ognuno ha la sua bellezza, ognuno ha la sua bellezza. Tu hai la bellezza di essere alta e magrissima, come la vorrei tanto. Anche se mangio molto, devo dire che è nominata proprio. E questo è il guai, questo mangia tanto e non ingrazza. Noi siamo tutte a dietro, è vero ragazze? Allora Diana, anche per te, tu sei stata quest'anno a Castrocare, è vero? Sì, è vero. Te la sei cavata? Abbastanza. Parlaci un po' che ha. Niente, io volevo salutare di nuovo il nostro bravissimo organizzatore Benito Viola, che ho rincontrato, è stato un piacere per me, perché l'ho incontrato l'anno scorso quando lavoravo con Santino Rocchetti. Quest'anno è stato ancora più bello, perché l'ho incontrato con voi tutti, specialmente con la signora Barbara Bindi, ed è un piacere per me. E basta, intanto. Tu ci stai, come ti voglio dire, aumentando tanti di quei complimenti. Noi ti ringrazio, lo so, sono spontanei, sinceri e di cuore. E io a nome di tutti quanti ti facciamo veramente, non diciamo grazie, perché a Napoli ci vuole dire, chi ringrazia esce fuori obbligo. Ne li possiamo dire, semplicemente, a nome del nostro impresario, il signor commentatore Antonio Fusco, la signora Barbara Bindi, che è la capostipide dell'orchestra, il balletto, le cantante, l'orchestra, il cantante Luciano. Tutti quanti possiamo dire, dacci l'onore di venire a Napoli, che sarai avrai la stessa, la stessa ospitalità che ci hai dato a noi. Questo te lo diciamo tutti quanti di cuore, di affetto e di sincerità. Noi ringraziamo Tavola Nanova, ringraziamo, ringraziamo il proprietario di questo bellissimo locale che ci ha fatto mangiare divinamente bene. Sono convinto che tutti i miei colleghi, Barbara Bindi, con tutta l'orchestra meravigliosa che è preparata da lei, compreso il signore che è quella mia, Barbara Bindi. Allora, ragazzi, siete pronti tutti? Allora, è per Televiola, i PIP! Ura! I PIP! Ura! E per Benito Viola, i PIP! Ura! Ci vediamo l'anno prossimo. Arrivederci! Voi, carissimo amico pure di Pupo, il noto cantante della radio e televisione, è stato questa volta di parola. All'indomani del 10 sessa ha detto che Pupo sarebbe comunque venuto a Taurianova. Ed infatti oggi Pupo è ospite di Benito Viola. Ci troviamo appunto nella casa di Benito Viola. Vogliamo cogliere appunto l'occasione per domandare a Pupo quali sono ospite e quindi vorremmo un po' puntualizzare... Per telefonare o no da per venire a trovare...